Ed eccoci qui ragazzi, eccoci qui in un altro video. Ci siamo ritrovati nello scorso video a parlare di come diventare influencer, di come usare gli hashtag, di come vedere l'algoritmo di Instagram, ma in questo video parleremo principalmente di come diventare ed essere un fashion blogger ragazzi, sì, come diventare ed essere un fashion blogger. Allora partiamo dall'inizio. Che cos'è un fashion blogger? Un fashion blogger non è altro che una persona che ha creato un suo sito web, un suo blog, ecco, quindi per esempio nel mio caso www.musellacristian.com quindi dicevo non è altro che una persona che ha deciso di creare un proprio sito web per condividere idee, passioni, gioie, felicità e quant'altro su Google. Quindi ragazzi, ora andrò a spiegarvi come diventare un fashion blogger di successo. La primissima cosa da fare per diventare un fashion blogger è aprirsi un sito internet, di aprirsi un blog. Ma come si apre un blog dite? Giustamente, un blog si apre, allora nel mio caso ho aperto il mio blog grazie ad Aruba. Aruba è un servizio di hosting, è molto conveniente anche tra l'altro, semmai ve lo scriverò anche sotto nei commenti per andare a vedere il loro sito online. Niente ragazzi, vi dirigete su Aruba e scegliete un qualsiasi dominio, quindi andate su Aruba e vedete un qualsiasi dominio che sia disponibile. Quindi andate su Aruba, scrivete un dominio che più vi piace, sceglietelo e pagate l'abbonamento annuale, perché io pago quello annuale, mi sa. Una volta fatto questo passo, il vostro blog sarà aperto in due giorni massimo, il tempo della configurazione e il tempo di vari aggiornamenti, sarà aperto il vostro blog ufficiale. Da qui va curato, estremamente curato, come dalle impostazioni del nostro blog possiamo accuratamente scegliere il tema, la modalità di scrittura, le grandezze, le dimensioni della scrittura, possiamo scegliere davvero tantissime cose che più ci piacciono per il nostro blog. Scusate ragazzi, il computer ti dà un po' fastidio, c'è un blu che non mi piace. Ora va meglio ragazzi. E allora, come dicevo, per aprire il nostro blog serve un servizio di hosting, in questo caso Aruba. Ok, abbiamo il nostro blog. Cosa fare? D'ora in poi dobbiamo condividere soltanto ciò che vogliamo davvero esporre a chi vorrà seguirci anche sulla grandissima rete chiamata internet. Quindi ragazzi, grazie al nostro blog potremmo raggiungere grandissime e innumerevoli persone. Però la domanda fondamentale, ora che siamo blogger, come si fa ad essere fashion blogger? Allora, un blogger non è che una persona che condivide i suoi sentimenti su internet e fino a qua ci siamo. Però ci sono varie nicchie, anche su questo ci sono varie nicchie come parlavo di Instagram. Anche sul blog abbiamo varie nicchie. Per esempio, io tratto il fashion, molte persone trattano l'elettronica, molte altre persone tratteranno frasi d'amore. Qualunque cosa vi piaccia fare, voi la fate sul vostro blog. Quindi potrete anche mettere video, potrete anche mettere testi, canzoni, tutto quello che volete si può fare sul blog. Quindi parliamo di come essere anche un blogger. Un blogger è un po' più generica come cosa. Quindi perché un blogger è colui che condivide il tutto sul suo blog. Quindi dalla giornata di sole a come si è vestito, ha nuove conoscenze che ha fatto e parlare anche del fashion. Però il fashion blogger è mirato solamente a parlare di outfit, come vestirsi, come abbinare i colori, come fare questo e come fare quell'altro. Però per quanto riguarda il fashion, la cura personale e per quanto riguarda molte altre tematiche che riguardano sempre il fashion. Quindi ragazzi, ricapitolando, cosa dobbiamo fare per diventare dei blogger barra fashion blogger? Dobbiamo dirigerci su un sito di servizi hosting. Dobbiamo cercare un dominio che più ci piace, ad esempio pizzapizza.com. Cioè non è che però più o meno siamo lì. Allora, dopo aver cercato il dominio che più ci piace, aspettiamo un paio di giorni che il nostro blog sia pronto. Quando il nostro blog è pronto, possiamo cominciare a condividere idee e pareri sulla grande rete chiamata internet. Poi ci sono molte altre cose da sapere dopo che si è diventati blogger o fashion blogger. Ad esempio, per far posizionare al meglio il tuo sito, ti servono dei link building, nel senso che qualche altro sito della tua stessa nicchia e dei tuoi stessi interessi parlino del tuo sito taggandolo. Quindi taggandolo nel senso di compiere un'azione chiamata link building. Sì, perché su internet, quando qualche sito tagga un altro sito, è chiamato link building. E tramite questa metodologia di condivisione, diciamo di taggamento, chiamiamolo taggamento, potremo affermare il nostro sito sempre al top della ricerca. Quindi ragazzi, molto importante, questi vari punti vanno seguiti. Poi se volete molti altri consigli, io sarò sempre nei commenti a rispondervi e sarò anche disponibilissimo su Instagram. Quindi ragazzi, ricapitolando ancora, facilissimo. Aruba, dominio. Aspettiamo la configurazione da parte di Aruba di un paio di giorni e da lì potremo cominciare a condividere grandissimi contenuti sulla grandissima rete chiamata internet. Quindi ragazzi, grazie mille per aver seguito quest'altro mio video. Non posso fare altro che salutarvi sempre e comunque. Io sono sempre qui a vostra completa disposizione. Un grandissimo bacio, Cristian Musella. Ciao!